Ciao, sono Francesco di Choose Naples e oggi, in occasione dell'allenamento a porte chiuse del Napoli, siamo qui a Pesco Costanzo per le ultime novità di mercato della squadra azzurra. Partiamo subito dalla porta, in questo mercato abbiamo visto il riscatto di collini dall'Atalanta con un nuovo prestito e abbiamo anche visto il primo e vero e proprio acquisto del Napoli, Caprile dal Bari, poi mandato in prestito all'Impoli per un anno. Potrebbe essere il portiere dei prossimi anni del Napoli. Passiamo alla difesa che è un po' quello che tutti vogliamo sapere, Danzo ha firmato il rinnovo con il Lenz e la società francese si è anche divertita in questa pubblicità di questo rinnovo di contratto facendo uno sfotto alla società azzurra. Il nome in pole rimane Kilman, c'è distanza sia sulla modalità di acquisto sia sul contratto, Kilman non vuole scendere sotto una certa cifra e il Wolverhampton vuole il prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli invece lo vorrebbe comprare a titolo definitivo. In alternativa a Kilman rimane Murillo del Corinthians, la società brasiliana vuole sempre i 20 milioni che il presidente non è disposto a pagare. Passiamo al centrocampo, Don Belé come ho detto anche ieri è andato via, c'è bisogno di un centrocampisto. Lo Celso resta un'idea mentre Castrovilli è sfumato definitivamente passando al Bournemouth. Passiamo subito sempre a centrocampo, a Zielischi il rinnovo di contratto, il calciatore polacco è disposto a rinnovare anche ad un ingaggio inferiore ai 3 milioni pur di restare a Napoli. Infatti vista un po' la politica aziendale del presidente avuta con Arkadius Milik, c'è Zielischi non vuole fare la stessa fine del suo compagno di nazionale. Quindi vuole giocare, non vuole rimanere un anno fermo visto che è in scadenza 2024. Sempre per il centrocampo c'è un grande problema, nel mese di gennaio ci sarà la Coppa d'Africa ed Anghissa sarà impegnato con la sua nazionale, c'è bisogno di un centrocampista. Il Napoli proprio in queste ore ha fatto un'offerta per Coop Maners dell'Atalanta di 30 milioni e l'Atalanta sarebbe su quelle cifre, quindi l'accordo con Coop Maners potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. Passando all'attacco Lozano è sfumato ai Los Angeles FC, anche il suo contratto è in scadenza nel 2024, però non ci sono altre offerte. Lui non è disposto a rinnovare il contratto perché vuole 6 milioni e mezzo l'anno, quindi adesso c'è una sorta di scontro. E si vede anche negli allenamenti che Lozano sembra essere sempre meno partecipe al gioco del Napoli. Vedremo come andrà a finire, sta di fatto che vedendo appunto come è successo con Milik, Lozano potrebbe fare la stessa fine. Passiamo ovviamente a Victor Ossiman. Il rinnovo di contratto si avvicina, il presidente sarebbe disposto a pagare i 10 milioni di ingaggio l'anno che vuole Victor Ossiman, rimane soltanto la problematica della clausola recissoria dove Victor vuole scendere sotto i 120 milioni, mentre il presidente non è disposto a scendere sotto i 160. Quindi bisogna vedere come si incontreranno le due parti, però sembra essere molto vicino. Concludiamo con due riscatti che ci sono stati, quelli di Raspadore e Simeone, che saranno molto importanti nell'anno. Non ci sono altre novità di mercato, noi con le novità di mercato ci vediamo domani e oggi ci sarà il report dell'allenamento azzurro.